La gelosia Miley Cyrus confessa la sua gelosia, fa spiare Liam Hemsworth La gelosia non fa distinzioni e anche Miley Cyrus ha confessato candidamente di soffrirne. . La star e Liam Hemsworth sono tornati insieme lo scorso anno, dopo una lunga separazione. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2009 dopo l'incontro sul set di The Last Song. . Ora vivono insieme a Malibu, nella ex casa di Miley, che il fidanzato ha acquistato durante una delle loro tante separazioni. . 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